Per disinfettare la scarsa credibilità che sono riusciti ad accumulare in questi anni, soprattutto in questi ultimi mesi, praticamente quasi tutti i partiti, si sono accodati alla narrazione fallace del governo tecnico, della responsabilità, al feticcio dell'alto profilo e al governo voluto dal Presidente. Vorrebbero convincerci quindi che siano in pratica costretti a partecipare il governo Draghi per condonare qualsiasi azione possa avvenire nei prossimi mesi in caso di insediamento del governo e poter poi ricominciare a sparare a palle incatenate, questa volta contro Draghi, l'uomo solo al comando, che ritornerà utile a battere quando calerà il consenso polpolare di questo o di quel leader. La definizione di governo tecnico è una truffa, è una locuzione che si ritira fuori ogni volta che non si ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e viene spalmata da certi giornaloni nella speranza di sospendere la politica e non liberi tutti che sospenda ogni giudizio. Eppure il prossimo governo Draghi, come giusto che sia, sarà un governo politicissimo. Cosa c'è di più politico di decidere una maggioranza in Parlamento che si prenda la responsabilità di guidare un paese in piena pandemia? Non è politica prendersi la responsabilità di scrivere la prossima legge elettorale? Non è politica prendersi la responsabilità dell'elezione prossima del Presidente della Repubblica? Non è politica decidere le priorità secondo cui spendere i soldi che arrivano dall'Europa? Non è politica decidere come e quanto ristorare un paese in piena crisi occupazionale a causa del virus? Non è politica decidere come provare a fare ripartire un paese? Dai, non prendiamoci in giro. Su, questa asmania di queste ore che ha colpito taluni capi di partito mentre si mettono in disparte in nome del culto di Draghi, come se fosse un babbo natale da aspettare solo strezzando gli occhi e sperando di sentire il suono delle campanelle. Non ha niente a che vedere con quel senso di responsabilità che viene sventolato in queste ore da tutte le parti. Non si appoggia Draghi perché calcia le punizioni come Baggio o perché è un Ronaldo che non può stare in panchina. Come hanno detto Renzi e Giorgetti, a proposito avrebbe dovuto essere l'inizio di una politica alta ma a livello di analisi di alcuni capi di partito è puro bar sport. Ma ci si prende la responsabilità di ascoltare e porre i propri temi. I temi appunto. La scomparsa di temi programmatici che fino a qualche giorno fa sembravano imprescindibili dimostra un primo preoccupante effetto Draghi che era facilmente immaginabile, ovvero la tentazione dei partiti di nascondersi sotto la sua ombra per poi accoltellarlo alle prossime idi. Se è davvero il momento della serietà allora che si faccia i seri e che questo giro di consultazione apre un dibattito vero su quali siano i punti di intesa di una maggioranza che potrebbe mettere insieme formazioni che erano inconciliabili fino all'altro ieri. Perché più continueranno le iperbole sui nomi di Draghi senza scendere nella discussione dei punti e più si sente l'odore della truffa. Fingono di prendersi Draghi a scatola chiusa perché sognano di rivendercelo a scatola chiusa. Buon venaggio. Buon venaggio.